Siamo in mezzo alla brina ragazzi Stamattina c'era un grado Ora penso ce ne siano quattro Una volta registravamo al chiuso, al caldo Quando eravamo diciamo un canale nascente Ora abbiamo deciso Dall'esperienza, dal savoir faire Di registrare in pieno inverno all'aperto No, vedi qua tu sbagli Perché prima quando eravamo un piccolo canale In casa, al chiuso, in un appartamento Invece adesso nel nostro giardino Ah beh perché il parco è nostro esatto Il parco è nostro abbiamo anche Preso degli erenomadi che ogni tanto vengono Questa settimana abbiamo realizzato un sogno Che avevamo da tanto tempo, cioè perlomeno io Fare il salumiere, non so te ma io Ho sempre desiderato fare il salumiere Non è che sono un ambizioso Però ho dei sogni un pochino più Ma come l'edipolante da piccolo Che lui può gestire tutte le figurine Il salumiere gestisce il prosciutto crudo di Parma Ragazzi Cosa abbiamo fatto ragazzi Abbiamo praticamente preso sotto stagio Un intero supermercato Cioè siamo stati in un Carrefour gigantesco Avete non so magari qualcuno della zona Vedete quello di Carugate Avete presente che è gigantesco? Saranno 12 milioni di metri quadri di supermercato Cioè si può giocare a calcio Probabilmente due partite contemporaneamente si possono Esatto Eticamente vestiti da commessi Carrefour Abbiamo fatto un sacco di situazioni Che non dovrebbero mai essere fatte Infatti il titolo è I 20 regali da non fare Perché dentro il Carrefour facevamo dei regali alle persone Che potevano essere regali fisici Quindi per esempio non so Un maglione usato Però vedrete come Oppure dei regali concettuali Delle situazioni Un abbraccio Un colpo di... È un po' molto simile come stile Come ritmo alle 50 cose da non fare Quindi sono sicuro che vi piacerà molto Io so anche che anteprima mettere Per far capire che ci sono anche i regali non fisici Ed è quella Una dell'interfono metterei Ah è vero Potrebbe essere una buona anteprima Ma poi ragazzi scusate Vabbè lo dico dopo l'anteprima 25 euro di rimborso Com'è che è su tutta la spesa o...? Sì un attimo Astro del cielo Vada vada Pago di vino Mi te nello more Buongiorno È il giardiniere del nostro... Gira investito in tecnica Perché comunque Com'è grande Corre No quello che volevo dire dopo l'anteprima A parte tornate mercoledì alle 14 È che c'è ragazzi una scena Davvero Che credo sia All'ultimo l'abbiamo fatta E anche all'ultimo dell'anno Ormai siamo a novembre Per ora è la scena più bella del 2017 Io lo dico Non lo nego Perché è davvero Vittima perfetta Non dire qua Vediamo se lo capite Facciamo questo giochino qua È proprio diversa dalle altre Eh sì è vero Però Cioè voi non avete idea Anche perché Vabbè non lo dico Perché sennò si capisce qual è Però Nel senso Vabbè sotto il video di mercoledì Se individuate la scena Scriveteci Questa è la scena di cui parlavate Nel prossimamente Dicendoci il minuto della scena per esempio Semplicemente Ripetendo Quella cosa Che questa vittima Continuava Insistemente a ripetere Comunque Da poco Stiamo utilizzando la community Su youtube Qualcuno di voi sa cos'è Siamo tra i pochi ad averla tra l'altro Esatto Diaticamente Come si può definire È una sorta di Però non vorrei dirlo È una sorta di social network Interno a youtube Quindi si fanno in post Si mettono le foto I sondaggi soprattutto Esatto È una cosa fighissima Perché infatti L'abbiamo utilizzato Questa settimana qua Quindi Se non lo sapete In teoria Sulla app Bisogna che tutti Lo usiamo totalmente al cellulare C'è scritto proprio community E controllate E seguiteci anche lì Perché magari Vi diciamo qualcosa Vi comunichiamo qualcosa Anzi tra l'altro Il detto fatto Che stiamo girando Questa settimana qua È un sacco di spunti L'abbiamo presi Tramite I vostri post Che avete scritto Di sotto Sotto la community Quindi Infatti a tal proposito In alcuni Sotto già due video Lo scorso Di due settimane fa E quello di settimana scorsa Scriverano Ma dov'è il detto fatto Perché ci avete fatto fare il sondaggio Ovviamente Noi vi abbiamo fatto fare il sondaggio Su che video volevate Ha vinto il detto fatto E l'abbiamo iniziato a realizzarlo Non è che appena scade il sondaggio Noi ce l'abbiamo pronto Capito Era solo quello E infatti arriverà Vabbè ve lo dico Ma è quello di prossimo Ho detto fatto natalizio E ora andiamo infatti A girarlo Molto lungo questa volta Sì Sì è lungo Ma no 3 minuti e 56 No no lungo le riprese Ah sì Perché fa freddo La gente non esce Non si ferma sulle panchine Un giorno siamo stati in giro Faticamente Una giornata Abbiamo fatto una scena Però siccome Non ci dispiaceva Non produrre nulla Ci siamo inventati un altro video Che uscirà Che è geniale Probabilmente potrebbe essere uno speciale 2 milioni di iscritti Se vi muovete Fate iscrivere i vostri parenti ragazzi Comunque a proposito di parenti Non c'entra nulla Però continuo a Social House Mercoledì Questo mercoledì In seconda serata Sempre su Rai 4 L'ora precisa Non si sa Perché non da dopo il film Di Rai 4 Quindi guardatevi il film Anzi no Verso le 22.50 Non lo so Non lo so L'ora precisa Comunque saremo lì Chi sono gli ospiti Della terza puntata Non me la ricordo Mastrota No Mastrota è venuta nella seconda Scherzavo Cioè C'è appena stato Mastrota Che cacchio è Gli ospiti Della Ah no La terza puntata È una puntata Di dissidi C'è il dissidio Con C'è Mister G Che Mister G Che si arrabbia Con noi Poi facciamo pace Cioè ci sono Sì Poi l'ha erato tutto Era ovvio Che facevamo pace Non è che potevamo Cacciarlo fuori di casa Non mi ricordo Se non c'era lui Non facevamo nulla Chi erano gli ospiti Sai che non mi ricordo Ah forse viene Veniva la Quella Che rideva così No Ah Di già No Non ero Molto più avanti È la terza La prossima Forse la quarta Adesso Vabbè ma ho un'idea Ti salvo Dalla regia Mandateci un'anteprima Così vediamo Chi sono gli ospiti Cazzo no Di primo qua ci dormiamo Vedete verità Raga C'è tu davvero Dei uomini A lavorare Ale C'è il re del pennello Voglio dire Mamma mia Ho visto tutti i tuoi film Sei un ragazzo preparato Bravo Ale Oh C'è uno di colore Eh stai attento No sto scherzando Tutti insieme Dovreste dare uno scappellotto Ad Alessio E ad Alessandro È possibile Qualsiasi ospite Bene Prima l'avete vista Quindi guardate la puntata Appunto mercoledì In seconda serata E twittate Perché noi comunque Vi twittiamo Seguiamo chi Chi sta bene attivo L'altra volta siamo arrivati Alla prima puntata Secondi su Sì Top trend La La scorsa puntata Terzi se non sbaglio Sì Questa puntata Dovemo puntare Di vari primi Sì ragazzi Cioè è ora di farcela Nel frattempo Seguiteci anche su Instagram The Show I nostri profili Tra l'altro ragazzi Sul mio profilo Potrete vedere Social House 2 Perché sto ristrutturando casa Stavolta pago però Cioè nel senso Ho provato a fare un appello Ieri ma non è venuto nessuno Quindi ho deciso Di pagare un'azienda Per farlo Per ristrutturarlo Bene ragazzi È molto freddo Siamo molto in ritardo Quindi vi salutiamo Vi ringraziamo di cuore Per tutto quello Che fate per noi Cosa non lo so Però Nel senso Guardate i nostri video Ci mancherebbe altro Fate bene Poi mi sono reso conto Di una cosa Facendo un ragionamento Ieri Ho detto Ormai YouTube È inutile dire Che non è così Perché Purtroppo è così È così È usato principalmente Da gente piccola Cioè nel senso Molto 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 piccola E noi Stavolta Degli analytics Abbiamo soltanto Il 15% Di minorenni Quindi quella gente Li difficilmente Si mette a Guardare i video A commentare A mettere Mi piace Stai dicendo Che sono molto contento Che tanti adulti Ah che ci guardino Gli adulti Ci guardano Con questa intensità Ciao adulto Se ci stai guardando Vorrei anche Faccio un bonifico No si Faremo una campagna Minorenni Che non significherà Fare video che piacciono I minorenni Assolutamente no Secondo me Significherà Fare le giuste Collaborazioni Stiamo arrivando Amici Buon Natale 2018 sarà l'anno Di cosa Dei 3 milioni Di 3 milioni In un anno Sperate gli istmi Sperate i 2 milioni Di 3 milioni Assoluto